Mettilo in frigo per 1-2 ore e poi sciacqualo Funzionava questo trucchetto per pulire e penare l'indelebile? Proviamo! Mi raccomando, seguitemi e lasciate like Adesso prendiamo il nostro Rangoscar e andiamo a sciacquarlo Mi raccomando, se non avrà funzionato, suggeritemi qualche trucchetto da provare Sciacquiamolo ben bene Non ha funzionato proprio un bel cheeseburger